Siamo già alla seconda spedizione di quest'inverno e ora siamo pronti a ripartire, miaggerò solo con Cornal La macchina è praticamente solo tavole, con un sacco di previsioni Stavolta le previsioni sono belle, lo erano anche altra volta, stiamo surfando tantissimo ottobre Quest'anno non voglio perdermi niente, niente, di niente Quindi ci siamo ragazzi, siamo on the hunt Qua Morta Ehi lì, che aspettative hai? Sono alte, a sta botta sono alte, altissime, sì Stiamo in viaggio, friends and family, we are traveling La strada è libera, il tempo è grigio, fa ancora caldo Le previsioni sono buone E raga, stiamo carichi come i muri, in due pare che ci stiamo a spostare Di casa, traslogo Quindi follow us and see what Italy is gonna show us Show us Quello te lo metti solo quando è high risk La fai a te come ci stai? Beh ci stai da paura Comunque siamo arrivati ragazzi, è notte, siamo stanchi Incrociatevi insieme a noi per domani perché we're gonna score L'ho detto eh, l'ho detto Buonanotte a tutti, see you in the barrel Inizia a fare luce Ci ho salito tardi, vuole essere il primo in acqua Un'utila nuova Siamo a fine ottobre, ancora la 2-2 Proviamo questa, vediamo un po' come l'ha Aspetta raga Uh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Second try, nell'attesa che vorrebbe diventare magnifique. Non va si è not foie, mister Kornal. Non è mare. C'è tanta acqua, qualcosa. È fotto. Qualcosa vorrebbe uscire. Ci proviamo. Vi teniamo al corrente. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Sì, però... Si leggo. Nei sa... Sì, sì. Sì, guarda dietro. È gigante. No, vabbè. L'unica cosa sicura è che lo spot non tiene questo tipo di onde. La tavola è estremamente piccola. E forse le onde più grosse che ho mai visto nel nostro mare. C'è proprio di grossezza. Però vabbè, lo spot non le reggeva. Comunque è stato bello prendere qualche botta in testa insieme ai miei amici. Dai, il trip non finisce. Domani si continua. Andiamo. Motherfuckers. Il trip non si fa nulla. Beh, si è affogato. Come si è affogato. Come si è affogato. Come si è affogato. Sì Day 2 Accusi il corpo Va male tutto Aria fresca E ora andiamo a vedere se ci premiamo Ieri riguardando le immagini Ci siamo resi conto che era una gran bella giornata E che si poteva fare sicuramente meglio Però questo è il senso Se non lo fai tutti i giorni su quelle condizioni E' capace che lo accusi un po' Ci rimettiamo in marcia E dai che è un altro giorno Ciao 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 Ho visto che c'è la pietra, c'è la pietra. Ci proviamo. Guardi in atto, posso fare solo una cosa, non posso mettere. Allora, stiamo in attire. Adesso ci vediamo.